Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato al Deep Dark e alle città antiche. Oggi andremo a vedere il più grande mistero delle città antiche e cercheremo di capire il suo senso. Per l'occasione ci troviamo sopra il Deep Dark, quindi adesso andiamo subito giù in Spectator per cercare il Deep Dark e la città antica e ci tengo a dire che questo video viene fatto sullo snapshot 22v13a, anche se non è un video dedicato allo snapshot ma ha delle sue conseguenze, ma allo stesso modo l'ho potuto fare solamente oggi dopo aver capito alcune cose dallo scherzo del pesce d'aprile di ieri. Ci troviamo quindi nella città antica, una città che come suggerisce il suo nome è stata costruita da un antico popolo di costruttori che sta iniziando a comparire nella lore di Minecraft. Le abbiamo già sentiti nominare dalle rovine antiche, ovvero quei blocchi da cui possiamo creare l'anederite. La lega più forte di tutto il gioco, il materiale più forte del gioco. Ma chi può aver costruito delle città tanto enormi e una lega metallica così forte? Oggi in particolar modo dobbiamo parlare dell'aggiornamento che è stato fatto alle città antiche e il suo significato. Abbiamo quindi visto nello snapshot che hanno aggiunto una serie di strutture nelle città antiche come questa torretta mezza sfondata ma anche delle cose un po' più strane. Questa struttura in particolare è davvero molto strana e come vedete è sponata in questo caso senza skulk block. Non capisco il motivo ma forse questa cosa giocherà a nostro favore. Questa struttura è una vera e propria dispensa forse dove si teneva il cibo. Un magazzino ghiacciato dove conservare qualcosa. Infatti possiamo vedere blocchi di ghiaccio ovunque. C'è una sorta di tappeto qui sopra con dei colori che vengono richiamati nell'intera struttura tramite questi tappeti ciano e alcuni tappeti blu che si possono trovare qui e là. E al suo ingresso sembra esserci una sorta di segnale acustico come un campanello che fa suonare questi blocchi sonori e che allo stesso modo se ci fossero gli shrieker sarebbe una trappolona che evoca subito il warden perché abbiamo fatto rumore. Andando invece da questa parte è possibile trovare una botola di ferro con tanto di leva tirata per aprire e chiudere. E qui sotto appunto una dispensa ghiacciata con tanto di cibo conservato, una zuppa andata male e alcune palle di neve utili per distrarre il warden stesso. Questa struttura prima non c'era e per quanto sia un po' bizzarra e qualcosa che non avrei pensato di trovare qui dentro introduce un concetto ovvero gli antichi costruttori facevano uso di redstone e questa cosa la si ritrova nella stanza segreta che nel video dello snapshot per questioni di tempo non avevo ancora trovato. Ricorderete che nello snapshot abbiamo visto il portale di cui parleremo dopo e la ceste che contiene un oggetto molto strano ovvero una singola carota d'oro ma sotto questa stanza esiste uno spazio. Questo spazio è possibile aprirlo. Infatti provocando alcuni degli sky sensor qui sopra è possibile inviare un segnale che va ad aprire delle porte là sotto. Ora non ho idea di quale sia lo sensor giusto e non so neanche se il circuito è esponato in maniera corretta visto che ci sono sky ovunque ma aprendosi queste porte sarà possibile entrare in questa zona sotterranea. Quando ho visto quest'area inizialmente non ne ho più parlato perché ho pensato si trattasse di uno scherzo. Questo snapshot è uscito infatti il giorno precedente al giorno del pesce d'aprile e avere una stanza del genere sotto il portale della città antica mi ha fatto pensare a una distrazione, magari a qualcosa di inserito che poi sarebbe sfociato nello scherzo dell'anno. Ieri abbiamo visto che lo snapshot dello scherzo era tutt'altra cosa. Peraltro tramite un tweet del 22 febbraio ho potuto notare che uno sviluppatore stava lavorando all'animazione del reggione del blocco in mano come abbiamo visto nello snapshot scherzo già appunto il 22 febbraio quindi parecchio tempo prima lo snapshot del pesce d'aprile è in lavorazione da un sacco di tempo e quindi questa stanza non è uno scherzo e non ha nulla a che fare con niente del genere. Sotto al portale della città antica è quindi presente una stanza o delle stanze, un laboratorio dove venivano fatti esperimenti di redstone. La cosa interessante a livello di gameplay è che questa zona funge da tutorial per imparare alcune meccaniche ad esempio qui possiamo vedere che una lampada si accende e l'altra no perché il segnale di redstone viene passato attraverso questo blocco ma non può andare attraverso il vetro sostituendolo la lampada si attiverà e io ho dovuto togliere i suoni del fuoco perché non lo sopportavo più dopo dovremo parlare anche di quello e quindi in questa zona ci sono tutta una serie di istruzioni tipo se mettessimo un libro qui girando le pagine potremmo attivare la lampada o se colpissimo con l'arco questo potremmo attivare la lampada con questo sistema e infine in quest'area c'è un circuito che va ad alimentare queste lampade tra l'altro è diverso da quelli che avevo già visto ma dovrebbe anche esserci ciò che poi andrebbe ad aprire le porte da cui siamo entrati e notato tutto questo detto che è molto carino avere una sorta di area che ti dia delle istruzioni in maniera vanilla e all'interno del gameplay stesso del gioco su come usare la redstone senza fidarsi per forza di cose a link esterni perché quest'area si trova proprio qui? e che significato ha nel contesto della città antica? ecco siamo qui per dare risposta a questo quesito bene io penso che chi ha costruito queste antiche città non fosse uno sprovveduto si trattava infatti di una civiltà molto evoluta una civiltà più evoluta dei villager decisamente più evoluta dei villager e per certi versi più evoluta del giocatore stesso questa antica civiltà non solo ha costruito tutte le città attorno al portale se non avendo costruito anche il portale loro stessi e questo nel codice di gioco è indicato a tutti gli effetti come portale quindi si aprirà verso qualcosa attenzione non lo sappiamo ancora ma si aprirà verso qualcosa questi antichi costruttori sono dei viaggiatori dimensionali e questa cosa è confermata al 100% il primo elemento che ce lo fa capire è sotto il portale stesso la soul sand data alle fiamme con il fuoco azzurro deriva dal nether ovviamente ciò ci dà quindi la conferma che avendo studiato questo portale loro sono stati nel nether e hanno avuto accesso ad alcune cose del nether dove poi tramite l'esplorazione hanno lasciato qui e là i loro detriti antichi da cui creiamo la netherite che ripeto è il materiale più forte di tutto il gioco quindi questi antichi costruttori avevano creato un materiale più forte del diamante e solo tramite i loro resti noi lo possiamo ottenere allo stesso modo hanno potuto creare la deep slater rinforzata che non penso sia un materiale già presente qui perché non ha un nome misterioso è deep slater rinforzata è la pietra che troviamo ovunque ma che è stata in qualche modo rinforzata e quindi sembra avere origine artificiale noi non abbiamo idea di come craftarla e al momento non lo possiamo fare ma loro sapevano come farlo hanno quindi creato questo enorme portale e hanno studiato la redstone e i meccanismi per trovare un modo per accedere a questo portale finché qualcosa è andato storto lo skulk e la comparsa del warden hanno distrutto la città e probabilmente eliminato gli antichi di cui ora ritroviamo solamente i resti questo portale quindi sarà attivabile? verrà mai aperto? ancora non lo sappiamo ma c'è un fatto importante la chest sotto il portale questa chest messa un po' a caso contiene una carota d'oro un solo oggetto questo oggetto non ha senso di trovarsi qui inoltre spona solamente alcune volte in alcuni di questi dungeon ma che cosa rappresenta questa carota d'oro? ebbene ho modo di pensare che sia un placeholder il live ieri sera ne abbiamo parlato a lungo ed è saltata fuori una teoria molto interessante questo oggetto è stato messo solo come segnalino segnaposto e verrà sostituito probabilmente da un oggetto super raro una chiave forse che sarà ciò che potrà attivare il portale non sappiamo se questa chiave verrà aggiunta presto al gioco o in futuro probabilmente collegandosi a un futuro update questa chiave potrebbe aprire un barco verso una nuova dimensione si parlerebbe probabilmente di qualche anno nel futuro oppure un nuovo portale per land o qualcosa che ancora ci sfugge potrebbe essere un collegamento a un punto lontano del mondo magari si collega a un'altra città antica e magari introduce il viaggio rapido nel gioco ma in qualche modo è molto probabile che questa carota d'oro rappresenti un oggetto che poi verrà inserito per attivare il portale e quindi ragazzi mi sembrava doveroso fare un video per mostrarvi il segreto sotto il portale e per farvi capire che cosa poteva essere questo segreto a che cosa poteva portare abbiamo scoperto che gli antichi erano anche a conoscenza della redstone sapevano usare i circuiti complessi sapevano viaggiare nelle dimensioni e hanno creato un portale che noi stessi non possiamo aprire è molto molto interessante la piega che sta prendendo il gioco spero in qualche modo di avere le nostre risposte nella 1.19 ma se così non fosse la mia speranza è che questa versione faccia da antipasto per una versione ancora più fega per la 1.20 un end update con un end super rinnovato e un nuovo portale ci metterei la firma personalmente fatemi sapere voi che cosa ne pensate detto questo ragazzi è tutto ci vediamo domani con un nuovo video e questa sera in live con la survival e oggi faremo davvero la survival ieri ho fatto un po' di tutto quindi dedicheremo tutta la live e ci vediamo settimana prossima si spera con un prossimo snapshot dalla 1.19 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti